Cambia sede l'archivio storico diocesano di Sassari. L'edificio del Collegium Mazzotti di fronte al Duomo di San Nicola accoglie adesso gli importanti documenti fino ad ora ospitati in largo Porta Nuova negli spazi adiacenti alla Curia. Si tratta di collezioni di storia religiosa, ma anche sociale ed economica della città e del suo Interland. Nato nel 1984 con l'allora arcivescovo Salvatore Isgro e diretto da Monsignor Giancarlo Zicchi. Nell'archivio sono custoditi circa 40.000 registri, documenti, carte sciolte. Atti e raccolte che risalgono anche al 1500. Questo è un documento del 1614 o 1604, anzi, della parrucca di Santa Polinare e sono i registri dei battesimi. Il Collegium Mazzotti riprende così vita dopo un importante intervento di recupero, grazie a un finanziamento della Fondazione di Sardegna insieme a Curia e Fondo CEI. La ristrutturazione del Collegio Mazzotti ha riguardato essenzialmente un corposo rifacimento sia delle strutture che degli impianti. A disposizione degli utenti una sala lettura. Il Collegio Mazzotti cosa rappresenta e che cosa ha rappresentato? È nato nel 1954 per volere di Monsignor Enea, è stato inaugurato nel 1955 dall'allora Presidente del Consiglio Segni e dal Presidente della Regione Brozzo e ha rappresentato dalla caduta del fascismo per oltre vent'anni un principale punto di riferimento di tutte le manifestazioni culturali sassaresi poiché era il punto d'incontro fra i laureati di allora e la FUCI. È stato chiuso per diversi anni e oggi ridar vita al Collegio Mazzotti significa un sogno che si avvera ma soprattutto conoscere e far conoscere la storia.